Siamo nel Bosco del Traversante, nella parte occidentale, a contatto con l'area umida, un'area umida, un prato umido creato negli anni 90 e siamo a contatto con una trappola luminosa utilizzata durante il progetto LIFE. Questa trappola luminosa utilizza vapore di mercurio a 200 Watt tramite un generatore. Durante il progetto LIFE ne abbiamo utilizzate varie dislocate in vari punti dell'Osi, sia in Cassa Campotto, Bosco del Traversante e Cassa Valle Santa. Con questo sistema abbiamo catturato insetti che hanno attività notturna, in particolare coleotteri, soprattutto la famiglia dei carabidi, ma anche altre famiglie sempre di coleotteri come scarabeidi, cerambici e ditiscidi. I ditiscidi sono in particolare legati all'acqua dolce. Le trappole luminose vengono utilizzate da vari anni. Con questo sistema arrivano, come si può notare, decine di migliaia di insetti, ditteri in particolare, soprattutto chironomidi e anche molte farfalle ovviamente, molte cimici, etterotteri e poi un sacco di famiglie di coleotteri, di tiscidi, carabidi. Qui a contatto tra il Bosco del Traversante e l'area umida, il prato umido, c'è una ricchezza di insetti notevole. Le specie di carabidi censite sono oltre 180, scarabidi, cerambici e altre famiglie di fitofagi sono oltre 90 specie. Tra l'altro tra i vari coleotteri abbiamo reperito, monitorato anche le lucciole, in particolare la lucciola italiana e l'ampiris noctiluca, l'altra lucciola notturna. Qua vediamo un grosso ditiscide. Questi abitano per tutto il loro ciclo in acqua, possono indicare anche la qualità delle acque. Nel caso di Campotto abbiamo trovato poche specie di ditiscidi e questo è collegato al fatto di una qualità delle acque non proprio buona. E questa luce attira anche insetti comunque da attività diurna. Molti di questi cimici che abbiamo qua su, molti eterottere, appunto vengono attirati dall'emissione luminosa. Lo scopo normalmente della trappola luminosa non è quello di radunare, catturare una quantità enorme di insetti. Normalmente si selgono, si selgono le specie che uno poi deve studiare. Vengono raccolte, portate in laboratorio e studiate. Sarebbe comunque impossibile mettersi qua a tavolino davanti a una lampada luminosa e determinarli sul posto. Molte di queste appunto devono essere determinate in laboratorio. Molti di questi insetti, attività notturna, sono cibo prediletto per pipistrelli e altri insettivori, sia tra uccelli, mammiferi, ad attività notturna.